Edder, Mech, Pallister L'ex marito avrebbe agito in concorso con una donna di 32 anni di origini dominicane e di due suoi connazionali, un 38enne e un 41enne. Quest'ultimo è stato trovato anche in possesso di circa tre etti di cocaina. Alla base del crimine vi sarebbero gli accesi attriti tra i coniugi. Discussioni determinate da ragioni patrimoniali connesse alla pratica di divorzio che la coppia aveva in atto. Le investigazioni erano da subito state avviate seguendo due piste come ipotesi, in modo parallelo, una, che all'origine della tragica vicenda vi fosse un'incursione predatoria nell'abitazione della donna, la seconda, che la morte della Ceskin fosse l'epilogo di un nefasto progetto maturato nell'ambito amicale o familiare della donna. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!